La partenza sembrerebbe valida, con Samontior SM che è partito benissimo dal secondo nastro. Parte bene anche Silvia FP che va al comando nei confronti di Socrate, poi l'esterno Selvaggia Nera lungo la corda Sonny Laser, mentre Samontior SM cerca di recuperare subito, sbaglia Selvaggia Nera, sbagliato Sandro, con Silvia FP che guida, Samontior SM che si mette secondo davanti al numero 2 Socrate. Così dopo i primi 500 metri di gara, la battistrada Silvia FP guida anche con ritmo, Samontior SM va bene la posizione presa, così Socrate davanti a Sonny Laser. Adesso Pacileo cerca di graduare con Silvia FP, questo paletto in 15 e mezzo, con il quartetto che passa per la prima volta davanti alle tribune, mentre Sonata Bellone, l'uno di Sandro e il quattro di Selvaggia Nera, si va dopo 900 metri con un rallentamento evidente. Adesso Silvia FP cerca di fermare il più possibile, sposta Samontior SM e Silvia FP sembra intenzionata a correre in schiena a Samontior SM, almeno questa è l'impressione visiva, adesso infatti il favorito allunga e passa. Samontior SM adesso al comando, Silvia FP seconda, terzo il numero 2 Socrate, con un parziale nel 14.8, Samontior SM adesso cerca l'allungo dalle retrovie e Socrate che cerca di spostare in anticipo su Sonny Laser, il ritmo è teso, Samontior SM percorre anche la curva in 15.3 quando i cavalli sono ai 600 dal palo, il battistrada è favorito, seconda la contro favorita, poi Socrate e Sonny Laser, quando si... ah attenzione, avete visto, ha saltato un qualcosa, Samontior SM davanti alle tribune, si rimette subito di trotto, adesso sposta con decisione Sonny Laser, Silvia FP è lì sotto, poi Socrate e Samontior SM come l'ultima volta, richiesto, mancano ancora 2.50, Sonny Laser arriva veloce, Silvia FP deve aspettare l'homping stretch con Samontior che è fermo, all'esterno Sonny Laser, di dentro Silvia FP, allottare Sonny Laser all'esterno, Silvia FP di dentro che sta rimontando qualcosa, Sonny Laser è più lanciato, Silvia sullo scatto, i due vicinissimi con Sonny Laser che probabilmente salva qualcosa. Mentre cede Samontior SM, la vittoria dovrebbe essere per Sonny Laser e Giampaolo Minucci su Silvia FP e Gennaro Pacileo, infatti le immagini dovrebbero confermare la tendenza, mentre per il terzo è il numero 6, Samontior SM che reitera i problemi in arrivo. 5-3-6, anche se c'è foto per il primo posto, per la quinta corsa del San Paolo. 5-3-6, anche se c'è foto per il primo posto, per la quinta corsa del San Paolo.